...naturale, fennet, perché sono pranotte. Mamma mia, come sul mar ti sei qua. Io, la sua maniata non so se questi sono messi, perché ce ne dà abbondanti, a fare piatti abbondanti, perché... No, ma è come mangiare in ristorante, cioè, con le posate, con i sviatti, proprio dicendo... Beh, ma, ah, non posso fare questo, no. Perché a volte con le foto non le pubblicano, nel senso... Perché io ho pagato, io ho mangiato un piatto di pasta con i portini, nel tagliacone, ma è un piattone, non ho mangiato... Ho bevuto una birra media, diciamo, una raga, aver bevuto il rosso da mia figlia, mia figlia un acqua minerale, un caffè, ho pagato anche sette ore. Io ho mangiato da tuo fratello in rifugio, una passata di verdura, pazzesca, oltra volta. Tampi la camera. Un mini piccoli. Un piatto. Pagania al piano. Un piatto. Portanto, un piatto.